Cari fratelli e sorelle, con tutto il cuore voglio invitarvi per la mia catechesi oggi sabato 23 settembre da l'Aste superiore, l'Aste vicino Belluno, in Dolomiti, veramente le montagne come vedete molto belle proprio da questo luogo ho scelto oggi la catechesi, in questo giorno quando ricorderemo tutti Santo Padre Pio Santo Padre Pio che ci ha dato esempio proprio dell'amore verso Maria, verso il Signore ma anche uno che ci ha dato esempio come portare la sofferenza, che ha voluto portare sollievo ai sofferenti, ma certamente Padre Pio che intercede, intercede per noi io lo chiedo, ieri ho letto, non mi ricordo dove, una frase molto bella, non è importante come grande è la nostra casa ma molto importante quanta è felicità in questa casa. Allora cari fratelli e sorelle chiediamo Santo Padre Pio che intercede per questa felicità nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Vi invito allora anche come ogni settimana per la mia catechesi alle ore 17 oggi sabato 23 settembre, ore 17 da l'Aste, dai Dolomiti e proprio in questo luogo così molto bello, catechesi in italiano alle ore 17 sul portale www.padreyarec.pl ma vicino qui anche c'è un posto molto importante, è un paese dove è nato servo di Dio, Papa Giovanni Paolo I diciamo Papa Luciano e visiteremo anche questo luogo oggi. Tanti saluti, vi aspetto alle ore 17.